Si gatti su ma non fa tanto bene andiamo, andiamo Buongiorno, che facciamo oggi signor Di Maio? Amico mio oggi facciamo, che facciamo? Cominciamo con il nostro che è champagne Spicola, aracoste, gamberù e cose più importanti, cose più costose che tiene, porta la tavola E' quello che si salta? E' quello che si salta Il superanelotto, meglio del superanelotto Vai, vai, ci vediamo dopo, vai Ma nonna, mi adoro E' calma fino a quando devi mangiare Guarda un po' con i sossi che ti mangiare con tutte le scorse Ti vedi bene? Un brone, chi si aveva mangiato? Un brone di artuffa E' buono Per la verità E' meglio un brone di fare un germà a casa E' la verità Che vedi? L'addizione 100 euro 100 euro 100 euro Vieni a capire 100 euro E' 100 euro Vieni a dottor il caffè E' ora c'è nato qua Salve bene, arrivederci a tutti Arrivederci Arrivederci Stanno dicendo a rosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa La famiglia nostra E' un altro 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 Dimmi Siamo arrivati al supermercato Questo è il più grande della zona Però Dato che sono conosciuto E tu no Io non posso fare bene Cosa c'è faccio lì il tarantello ora noi entriamo ci prendiamo un po' di roba in più ma senza esagerare poi al momento di pagare io passo avanti alla cassa e dico segretario, segretario mi do anche un tono ma te già segretario, segretario e tu che dici? comandate, commenta tu comandate, commenta si sempre esagerate io dico segretario che devo fare? ecco devi pagare il conto subito? e vai a pagare perfetto con una certa nonchalance hai capito? con una certa nonchalance vabbè eh? con una certa nonchalance ma l'ho portata che cosa? questa cosa che cosa? chi l'ha portata? non lo so, tu che dici? nonchalance e che se mi hai portato? e che tavolo di portare a presa la nonchalance nonchalance, indifferenza con sufficienza e te ne vai vabbè io nel frattempo ti aspetto in macchina mi raccomando perfetto sei pronto? si schioci ora andiamoci ciao 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 sono davantiato internazionale via via piglia il carrello piglia il carrello ah no chi è chissone piglia il carrello fai un prezzo fai un prezzo buongiorno 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 don Antonio carissimo questo signore è il titolare piacere anche don Antonio oggi è carne consigliatemi più qualche cosa di buono l'opinio rosso rosso prego 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 mandati mandati mi raccomando adesso faccio me la mela lì oggi grazie grazie è tenera è tenera credimi ho visto che sono qui ho macinato pure buono che le coppia è meglio del viagra tu sei morto pure tu sei uscito ora ci daremo una pezza sto prendendo sto prendendo anche questo piace vediamo pure questo i salumi non devono mancare i salumi non devono mancare non ti preoccupare la ricotta è buona perché non fa ingrazzare e sei a posto non metti le mani da borsa la signora che tu sei cosa che fa vai appresso grazie 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 a tutti.